Allora, buongiorno a tutti, naturalmente questa è una conferenza stampa per illustrare gli interventi che la Regione ha strutturato per garantire quelle misure necessarie per la sicurezza urbana, che è una materia delle Regioni, sicurezza urbana e sicurezza integrata, e attraverso l'impiego delle polizie locali, che sono le polizie dei comuni, ma non per questo hanno funzioni inferiori alle forze di polizia dello Stato. Come è noto, il Governo una settimana fa ha presentato in Parlamento un disegno di legge per innastrire le sanzioni e le misure per tutta una serie di reati, che sono definiti da una parte la scienza criminalistica microcriminalità, con una visione ideologica di questi reati, furti, rapine, scippi e truffe, che vanno a toccare sostanzialmente non la condotta penalmente rilevante, ma sostanzialmente vanno a toccare la condizione sociale delle persone che compiono questi reati. Quindi in sinergia con gli interventi dello Stato, noi abbiamo deciso, la Regione Marche, in giunta con l'indicazione del Presidente Acquaroli, ha deciso di fare un investimento molto significativo sulle attrezzature, sulle tecnologie dei comuni, che alle cui dipendenze svolgono il servizio le polizie locali. Adesso il Dottor Nocelli darà il dettaglio di questi provvedimenti che noi abbiamo adottato, però volevo sottolineare come l'attuale maggioranza di centro-destra ha voluto dare un segnale molto importante agli investimenti in materia di sicurezza urbana, con degli aiuti per l'acquisto di tecnologie ai comuni, che vengono somministrate attraverso un bando. Quindi è stato pubblicato un bando, le amministrazioni hanno partecipato, i tecnici e i dirigenti, che chiaramente intervengono per spiegare l'esito di questi provvedimenti. Poi, essendo una conferenza stampa, siamo qui per rispondere naturalmente alle vostre domande. Grazie Assessore. Allora, l'ufficio ha pubblicato qualche mese fa il bando per questo sostegno, questi contributi per l'acquisto e l'implementazione di strumentazione da parte della polizia locale e le risorse complessive con la delibera della settimana scorsa montano circa 800 mila euro e potevano partecipare gli enti locali nelle loro varie tipologie, quindi comuni, province, unioni montane o anche comuni in forma associata. Sono pervenute circa 100 domande per una proposta di intervento di circa 2 milioni di euro di investimenti in materia di risorse. Sottolineo il fatto che sono state accolte anche le domande, erano previste nel bando anche le domande per piccolissimi comuni, quindi l'attenzione è stata rivolta appunto a tutte le forme degli enti locali presenti sul territorio marchigiano e le tipologie di investimento presentate dai comuni, ho alcuni dati, erano della seguente tipologia. Per l'acquisto di autoveicoli per la polizia locale 47 domande. Defibrillatori 1, etilometri 5, fototrappole 49, radioportatoli veicolari 65, sistemi di lettura targhe 60, sistemi elettronici di rilevamento degli incidenti stradali 3, strumentazione per analisi dei falsi documentali 4. Il bando ha generato una gradatoria che è in fase istruttoria, quindi a giorni uscirà il decreto con l'assegnazione delle risorse e quindi diciamo questi interventi potranno essere finanziati fino all'80% della spesa, nei limiti ovviamente del budget regionale, per appunto iniziative che i comuni hanno sostenuto, stanno sostenendo nel corso dell'anno 2023. Quindi questi sono gli interventi che sono stati programmati e che verranno realizzati o sono stati realizzati dai comuni, quindi con il sostegno anche della regione. Il massimo del contributo è fino all'80% dell'investimento e se non ricordo male dovrebbero essere 25 mila euro. Sì, fino al massimo di 25 mila euro. Il cofinanziamento parla l'80% delle spese per investimento, ovviamente qui parliamo di spese di investimento, quindi attrezzature, non spesa corrente, fino al massimo di 25 mila euro. Allora, il bando è stato già pubblicato, siamo nella fase di completamento dell'istruttoria, quindi diciamo che la stiamo completando, penso che nel giro massimo di una settimana uscirà la gradatoria con i comuni che si sono collocati utilmente nella stessa. Allo stesso tempo, ecco, questa gradatoria rimane aperta e valida perché potrebbero anche esserci così ulteriori possibilità di finanziamento anche successivamente, anche se ad oggi il budget, ripeto, delle risorse assegnate è di 800 mila euro, quindi insomma un investimento importante. Allora, i criteri, un attimo che li trovo, perché erano articolati. Abbiamo l'indice di dotazione, che è l'attribuzione di un punteggio per i comuni con minore personale assegnato alla Polizia Locale in relazione al numero di residenti, quindi indice di dotazione, estensione territoriale in proporzione all'estensione appunto del territorio dell'ente richiedente, poi abbiamo dato dei punteggi premiali funzioni associate di Polizia Locale, nuovi assunti Polizia Locale e anche l'adeguamento a disposizione regolamentare della Regione Marche, quindi sono anche criteri, diciamo, nuovi rispetto anche ai finanziamenti, perché normalmente questo tipo di finanziamenti vengono erogati dal Ministero dell'Interno, che vengono attraverso le prefetture, quindi sono finanziamenti che vengono normalmente acquisiti dai comuni più grandi e più attrezzati. L'attenzione dell'amministrazione regionale e dell'assessorato in particolare è stata quella comunque di venire incontro alle esigenze anche, come dicevo, dei piccoli e piccolissimi comuni che spesso rimangono fuori dalle gradatorie nazionali o ministeriali. Allora io vorrei precisare un dato, la legge regionale prevede che come standard i comuni debbano avere un agente della Polizia Locale ogni mille abitanti, quindi questo è importante chiaramente ai fini della valutazione del livello anche di sicurezza e di investimento su questo tema. La seconda questione è che i piccoli e piccolissimi comuni, anche se è l'elenco esatto delle funzioni che devono essere svolte in forma aggregata, ancora ci sono state le norme, poi ci sono stati ulteriori interventi normativi, quindi è chiaro che mettere insieme piccoli comuni con comune tecnologie e comune attrezzature rende probabile e possibile che sulla sicurezza in senso generale si possa operare in modo più fruttuoso. Voglio anche aggiungere che qui la scorsa settimana il Governo ha anche presentato il disegno di legge delega in Parlamento per la riforma della Polizia Locale. Oggi la Polizia Locale ha dei limiti operativi che derivano dall'ordinamento nazionale, ma questo intervento è in piena sinergia con le nuove politiche di sicurezza dello Stato in cui c'è un aggravamento di pena, c'è un'elevazione di alcuni tipi di reati che sono stati qualificati criminogeni. Poi c'è anche la necessità che, pensiamo semplicemente alla vita o servoglianza, possa servire anche per le indagini più importanti che svolgono le forze di Polizia dello Stato e la stessa autorità giudiziaria per capire quali sono alcune tracce che per la commissione alcuni reati possono essere lasciati. Vi faccio un solo esempio. Sono stati scoperti gli autori di rapine molto eclatanti che si sono verificati nella nostra regione, semplicemente andranno a monitorare le immagini di telecamere che hanno state piazzate in alcune strade dei comuni della nostra regione. Quindi diciamo che tutto questo sistema è un sistema atteso a garantire la raccolta non solo preventiva di informazioni per i reati ma anche per l'individuazione degli autori. Pensate semplicemente quale può essere l'utilità, possa essere l'utilità di quel sistema che attraverso la lettura delle tar che individua le auto che sono coperte da assicurazione rispetto a quelle che invece non sono coperte per valutare l'importanza di queste tecnologie proprio perché in caso di mancata confettura è vero che c'è il fondo di solidarietà nazionale tra le polizze assicurative ma in caso di eventi in fausti o di eventi che determinano gravi compromissioni della funzionalità fisica e psichica delle persone è chiaro che lì poi bisogna garantire dei trattamenti anche permanenti a queste persone. Avere l'assicurazione che copre questi rischi è di fondamentale importanza come protezione sociale degli individui e dei cittadini. Allora se non ci sono altre osservazioni... prego... 100 domande per 2 milioni di euro di interventi, cioè gli investimenti complessivi... Cioè i comuni ci hanno chiesto di poter cofinanziare i loro progetti che complessivamente ammontano a 2 milioni come dicevo e noi siamo riusciti a coprire fino a 800 mila euro ma come diceva il dottor Nocelli vorrei che fosse chiaro che questi investimenti sin dalla legge Minniti del 2017 che ha introdotto l'idea della sicurezza urbana come misure di intervento preciso dei comuni, dei sindaci e delle regioni ecco erano fondi che sono stati erogati dallo Stato al Ministero dell'Interno. Qui l'operazione è caratterizzata dal fatto che le regioni chiaramente attraverso i propri fondi intervengono in materia. Lo voglio sottolineare, è una sensibilità che non tutte le regioni hanno. Io ritengo che una regione caratterizzata da un governo di centrodestra possa manifestare con uno sforzo enorme l'attenzione che noi vogliamo rivolgere nei riguardi di questo tipo di devianza. Si valuti che naturalmente la funzione di Polizia locale dovrebbe essere garantita dai comuni, una funzione proprio che i comuni svolgono come funzione propria e in ragione di questa funzione ricevono un trasferimento, probabilmente non sufficiente ma ricevono probabilmente un trasferimento. Qui la regione che ha una potestà normativa in fatto di sicurezza urbana, polizia amministrativa e locale e anche amministrativa nel senso che può approvare delle norme. Qui invece mette le sue mani nel portafoglio della regione e quindi aiuta i comuni a potenziare questo servizio che, ripeto, non può essere secondario. L'ho detto in conferenza stampa, lo aggiungo adesso. I primi segnali di devianza per quanto riguarda il Codice Rosso lo percepiscono le assistenti sociali e le polizie locali. Quindi il fatto di capire che c'è una violenza dentro il nucleo familiare, piuttosto che nei rapporti che possono portare anche a eventi esiziali come quelli che leggiamo sui giornali ogni giorno, ecco, tutte queste manifestazioni possono essere intercettate, ripeto, dalle polizie locali che possono ben cooperare poi con l'autorità giudiziaria e con le forze di polizia dello Stato. Quindi sono tutti strumenti diretti a corroborare questo tipo di percorso. L'altro aspetto non secondario è che andiamo a investire, per esempio, su tecniche investigative sopraffini, come per esempio è l'accertamento dei falsi documentali, la falsità in passaporti, la falsità in permessi di soggiorno, la falsità sui documenti di identità. Quindi, diciamo, sono investimenti di particolare rilievo. L'altro investimento, per esempio, sugli etirometri, si valuti che il più alto numero di omicidi nel nostro Paese non sono gli omicidi volontari, ma sono gli omicidi stradali. Quindi cercare di intercettare persone che si mettono alla guida sotto l'effetto di sostanze superfacenti o con l'abuso di sostanze alcoliche costituisce un'attività di prevenzione della sinistrosità stradale di particolare pregio. Quindi lo voglio dire e concludere, poi se non ci sono altre domande, sul fatto che c'è stato un impegno rilevantissimo della Regione. Io ringrazio anche il Dottor Nocelli, che è qui al mio fianco, il funzionario, il Dottor Chitarroni, che chiaramente hanno seguito l'iter dei provvedimenti. Io, naturalmente, l'indirizzo politico, gli organi di indirizzo politico, l'assessore, non interviene sui procedimenti amministrativi. C'è stato un bando, i tecnici chiaramente emettono un provvedimento alla fine su cui non c'è alcuna interferenza alla politica, questo deve essere chiaro. Però io vi ringrazio perché in tempi abbastanza brevi, anzi brevissimi, nei prossimi giorni emaneranno il provvedimento in cui si stabilisce quali sono gli investimenti. È una delle misure che a livello nazionale potete andare a verificare che non in tutte le Regioni ci sono investimenti sui temi della sicurezza da parte delle Regioni stesse. Se non ci sono altre osservazioni vi ringrazio. Poi vi preannuncio che su alcuni investimenti faremo iniziative con i comuni, con i sindaci, perché è evidente che la sollecitazione è quella di poter assumere un numero maggiore di agenti della Polizia Locale che possano essere impiegati nel territorio non solo, lo ripeto, per diveti di sosta e autovelox, ma anche per la prevenzione, la semplice prevenzione, magari notturna, serale, della criminalità. Quindi ci rivedremo per verificare quali sono i progetti che i comuni metteranno in campo per corroborare, per rinforzare l'attività di prevenzione. Concludendo, non c'è dubbio alcuno che il nostro sistema deve aumentare gli investimenti e la capacità di prevenire piuttosto che punire, perché quando il reato si è consumato voglio dire c'è poco da fare e quindi mi pare che sia un'iniziativa importante e di questo ripeto ringrazio i funzionari ma ringrazio anche il Presidente Acquaroli, i colleghi di giunta che insomma ci hanno dato assolutamente, ci hanno dato sostegno e vigore per questi investimenti insomma che in una cornice politica istituzionale fa sì che qua dentro ci sono insomma le sensibilità del centro-destra, insomma per essere chiari. Allora grazie e a presto.